Premier League siamo nella meravigliosa cornice dell'All Triford al 97-98 ingresso in campo dei nostri campioni andiamo a giocarci questo match in un campionato dove l'Arsenal è primo l'Arsenal facendo un campionato passesco e forza forza ragazzi campionato molto complesso qualche diffidato oggi è la giornata di Jordi Cruyff il figlio di Johan Cruyff e di là una squadra che non ha bisogno di grandi presentazioni si apre così con questi tacchi del cazzo centrocampo che noi giochiamo un calcio allegro un calcio champagne poi ogni tanto ci purgano ma peccato peccato perché si era anche girato bene James forse ci sarebbe arrivato grande 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 eh Teddy Scheringham qua lo prende in quel posto Paul Hins a centrocampo in questo magico Liverpool bella palla bella palla per Teddy è distinto James aveva resistito a due cariche molto intense palla in mezzo bella questa palla un po corta forse un po corta la picchia su David chiudigli la giocata così malignamente forza ragazzi dai Brutti questi cross la davanti loro hanno una coppia veramente scomoda con Owen e Fowler che possono comunque romperci la minchia noi dobbiamo stringere il culo e anche i denti e combattere combattere con una difesa decisamente ruvidotta gran palla questa Teddy Scheringham da solo però non ce la può fare perché i suoi compagni sono troppo isolati Paul Scholes si appoggia perché la vieni a prendere lì? perché la vieni a prendere lì? bella questa palla mette Irwin mamma mia stavano facendo una vaccata i giocatori del Liverpool James stava per fare un'altra con questo rinvio dal fondo Paul Scholes io veramente Giordi Cruyff che cazzo vieni a fare qua strisciata morbida morbido cross bello 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 ti sei fatto perdonare è riuscito perché abbiamo un po' aspettato come tempo questo è un gol importante un piazzato maligno con la testina Jordi Cruyff e ora bisogna non perdere tempo ma un po' addormentare la partita Beckham Beckham non salta il suo diretto marcatore ancora Jordi nella posizione probabilmente sbagliata David questo allora è un punto da cui non possiamo tirare fallo di Karagher però possiamo renderci pericolosi facciamo la follia peccato ci stava il tiro il tiro maligno Irwin Ryan Geeks sponda volevo fare una spizzata ma non ce l'ho fatta finisce un primo tempo non ricchissimo ma comunque è ricco di emozioni bello è fuori gioco me lo immaginavo un po' bravo Mickey Butt 1 2 sharing fai salire David lì fallo salire bravissimo fallo bene morbido peccato e qua Owen ci sfugge Gary Neville Gary Neville spavaldo tunnel tunnel di Gary Neville fuori gioco fuori gioco fuori gioco bah bah in quegli anni lì no perché ci voleva luce però giochiamo con un gioco nuovo capibile sono quelle cose simpatiche un po' che succedono con le mod regole del passato che non vengono applicate e noi lo prendiamo sempre in quel posto comunque perché a noi non ci capita mai l'opposto ci capita sempre la sfiga maligna bella questa palla Scheringham che partitone hai fatto Scholes che partitone hai fatto e Owen qua si prende il calcione beh ma è giusto così è giusto così entra in D-call che ci dà un po' di un po' di respiro sarebbero ripartiti splendidamente i giocatori del Liverpool noi non possiamo permetterci vista la delicatezza del match di prendere un contropiede Mickey Butt molto bello questo Manchester Johan Cruyff che comunque ha fatto una grande partita va bene va bene un buon faro laterale facciamo venire lui giù di là entra questo giocatore di colore ed esce Meg Manaman non indietro la volevo dare in mezzo la volevo dare lì lì la volevo dare Mickey Butt perde questa palla sanguinosa perde questa palla sanguinosa toccala di testa bravissimo e Peter Michael così allegro gran palla di là David puntamelo puntamelo anche se non ne hai più bravissimo bravissimo giocala così bravo David bella questa palla in mezzo va bene va bene giochiamoci questo cartellino va benissimo tanto passiamo anche questo ostacolo qua passiamo anche il Liverpool il Liverpool sconfitto a oltre 4 da 1 a 0 e si vola andiamo a vedere adesso qual è la classifica siamo lì ormai è gara 2 abbiamo giocato la bellezza di 16 partite quindi ce ne mancano 3 per finire il giornone d'andata è lunghissimo è lunghissimo qualche info per quanto riguarda per quanto riguarda la classifica tipo dei marcatori 15 gol Collimor io non non so chi sia sono lo ammetto noi dobbiamo tanto ai gol di Scheringham perché per il resto siamo una sorta di cooperativa del gol andiamo a vedere cioè noi abbiamo un gol con Nicky Butt due con Scholes uno Beckham perché uno è gol di Beckham l'altro è un autogall su punizia di Beckham due Solskjaer cioè comunque segniamo un po' tutti ma dai